vista la complessità dello stoccaggio dell'idrogeno e i costi connessi e visto anche la necessità di una transizione che noi vivremo, perché io posso capire andare a prendere la CO2 nell'atmosfera se non stessi più producendole e cercassi semplicemente di smaltirla, ma in realtà ancora per 30 anni almeno produrremo fumi ricchi di CO2 e quindi è lì che in primis potremmo andare ad agire ed esiste una possibilità di, io dico, rianimare un morto perché chimicamente la CO2 è un morto. Come aveva fatto il dottor Frankenstein per rianimare un morto? Gli aveva sfruttato l'energia rinnovabile e gli aveva sparato perché non è più o meno quello che dobbiamo fare adesso. In sostanza la riduzione della CO2 attraverso l'uso di energia rinnovabile o idrogeno che da questa è provato è come riavvolgere il nastro della combustione. Noi oggi stiamo bruciando ma potremmo usare l'energia elettrica per far tornare indietro se io sequestro la CO2 a metano ad esempio, questa è una molecola di metano che brucia con l'ossigeno da CO2 e mi dà acqua, se io sequestro la CO2 e la faccio ritornare indietro. Questo è un concetto che si sta peraltro affermando come power to gas ed è uno dei modi con cui uno può evitare che si emetta la CO2 e fare il buffer di energia rinnovabile non sfruttata. Ricordate il concetto della dinamica della produzione di energia elettrica per via rinnovabile del fatto che da qualche parte io devo stoccarla perché se non la uso la devo buttare via.